Siamo lodati Gesù e Maria Sempre siano lodati Oggi che è il giorno della solidarietà del Sagratissimo Cora di Gesù Riprendiamo e approfondiamo la riflessione che ieri in parte abbiamo introdotto Sulla accentuazione che la liturgia dell'Anno C fa a proposito del mistero del Cora di Gesù Il buon pastore che va in cerca della pecora perduta perché adorare Perché al cuore di Gesù va dato un punto di adorazione, non semplicemente di venerazione Perché Gesù è Dio e quello è il cuore del figlio di Dio Adorare il cuore di Gesù significa adorare il mistero dell'amore infinito che Gesù ha nei nostri confronti E che purtroppo molte volte viene manificato e frustrato dalla mancanza di corrispondenza Di amore da parte nostra Non solo mancato di cambio, di amore ricevuto Ma a volte proprio non mettersi in condizioni di ricevere l'amore di Gesù Perché chi si danna, detto come termini espliciti Quindi chi va incontro al fallimento eterno della propria vita Ci va soltanto perché non ha riconosciuto e accolto l'amore di Gesù Che al canto suo non escurde nessuno Abbiamo visto che il Vangelo parla di questa pecora perduta Mentre il profeta Ezechiele, tanto per andare a focalizzare Distingue alcune categorie di pecore Che sono oggetto di cure da parte dell'Altissimo Quindi da parte del Signore Eppure, se se le fanno, ecco, fagli Però possiamo individuare alcune fasce di persone Tenete presente che l'immagine della pecore è molto bella Perché i documenti stessi della Chiesa, tra le tanti modi Come chiamano la Chiesa stessa, come chiamano l'ovine di Dio Basta essere battezzati per essere parte delle pecore del Signore Però capite che non tutte le pecore del Signore Sono sane, robuste, forti, seguono il pastore senza nessun problema Ce ne sono, dice Ezechiele Alcune sono perdute Altre smarrite Altre ferite E altre malate Grazie a Dio c'è anche qualcuno che è grassa E che è forte Però poi le problematiche Sono appunto le perdute Le smarrite Le ferite E le malate Le pecore che non c'erano schiavolti Sono i grandi vecchi dubbi Sono quelli che a un certo punto Come il figlio del prodigo Basta, non voglio sapere più niente di nessuno E quindi Vanno a fare una vita Lontanati Ecco Sono le grandi conversioni Il Signore vuole che noi preghiamo continuamente Perché anche la Madonna lo chiede in continuazione Sono grandi conversioni Ma per certi aspetti Non è tanto difficile Al Signore trovare l'animo di un grandissimo peccatore Perché l'animo di un grandissimo peccatore Per quanto stia tanto lontano È sensibile Le chiamate la grazia di Dio Poi ci sono le anime smarrite Le anime smarrite Non sono Per duranza I grandi sii peccatori Sono quelle persone che Si sono lontanate da cregge Per tante piccole sciocchezze Quindi non è che la volta Sono delle scelte proprio Contrarie Brancano in una vita un po' così In una vita un po' lontana In una vita un po' Non troppo impegnata Per tante circostanze Per tante ragioni A volte Per ignoranza A volte anche Per qualche scandalo Che hanno ricevuto Da parte nostra Sia da parte dei federini Che da parte dei ministri E questo li ha portati A confondersi A smarrire Il bambolo della madassa Anche queste anime Il signore le trova Con una certa Non vorrei usare un termine Troppo ottimistico Facilità Perché basta che Vi invii qualcuno Che ne aiuta A ritrovare L'abbiamo il bambolo Della madassa O se stessi Che facilmente Tornano a vivere Il problema Sono le peccone ferite Le peccone malate Tutti Perché molte Trecole malate Non sapete Che ci sono Anche tra noi Mortali Ci sono delle malattie Che noi Non sappiamo Di avere Sapete come funziona Per esempio Adesso non voglio L'ordinarvi La festa Del sacro cuore Sapete come funziona Con i tumori I tumori Sono tra le peggiori Malattie Che esistono E sapete Perché quando uno Gli è un tumore Molto spesso Va incontro Al capo santo Perché il tumore Quando arriva Non si vede Quando uno se ne accorge È troppo tardi Allora Con queste categorie Nostro signore Piccola Perché le vecole malate Spesse e volentieri Si trovano Nel recinto Delle persone Cosiddette Vicine Non le persone Lontane Sulla vita A volte A volte Questo ve lo dico Per esperienza Coloro che rappresentano Il pastore I sacerdoti I vescovi Le persone Se ne accorgono Guardandola Che una persona Con un'anima E malata Cioè Ha delle cose Che non funzionano Ha dei comportamenti E si rende anche conto Che quella persona Non se ne rende conto Ma è difficilissimo Aiutarle Perché quando si sta Come dire Dentro il recinto Si pensa di stare bene Si pensa che Non c'è niente Che devo crescere Che devo correggere E questo è difficilissimo Perché provando Uno C'è un tumore Ma hanno fatto Ancora la visita E quindi Pensa di stare benissimo E È un guai È un problema grosso E per questo Dobbiamo pregare tanto E poi ci sono Le pecorelle ferite Che sono quelle Che o a caso Di alcune stupidaglie Che hanno fatto O molte volte A causa Come accennavo Del cattivo esempio Ricevuto Pensate per esempio A quante volte Avete detto il Papa Incontra Le persone Familiari Delle persone Che hanno avuto problemi Capite bene In che senso No Semplicemente Per tendergli una mano Appunto Per accarezzarle Per rendere una ferita Che comunque è aperta E che rende difficile Il cammino Che deve essere In qualche modo Renita E sanata Passiamo Alla bellissima Parabola del Bon Samaritano Che qualche domenica Ce la troveremo Durante la messa domenica Perché è un passo Di un gelo Di san Luca Ecco Gesù Ha una premura E un'attenzione particolare Verso tutte quante Queste categorie Simboliche Di persone Quello che ha lamentato È che Purtroppo Spesso e volentieri La sua azione Di misericordia Di amore Viene magnificata Dal libero arbitrio Dell'uomo Che o la rifiuta O lo rimane Indifferente O non l'accoglie O addirittura Nel vino La riconosce O Peggio ancora La cosa peggiore Pensa di non averne Il bisogno Bene Questo giorno Come già abbiamo fatto ieri Dopo la comunione Faremo l'atto Di riparazione A quale di Gesù Abbiamo sentito Che ha partecipato Allora Santa Ieri sera Gesù dice Proprio A Santa Margherita Che fosse istituita Una festa Che cadesse Il giorno dopo L'ottavo Di Corpus Domini Dove si face Sono messi All'anno del Sacro Cuore Una comunione Di panatrice Il vito che farà La comunione Di offrirla Con questa intenzione E un atto Di pubblicamento Tutti quanti i peccati Commessi contro il cuore Di Gesù Quello che abbiamo recitato Ieri Che reciteremo in questa Mese È stato composto A suo tempo Da Papa più undicissimo È un po' Diciamo L'atto ufficiale Ce ne sono molti In giro Ma nella liturgia Questo è più adatto Benediciamo anche Le cartelline Dei novelli Minubili Dell'Apostolato Della Preghiera Una è presente Che Anna E poi Loredana Quindi sapete Questa parrocchia Opera L'Apostolato Della Preghiera Che facendo proprio La scrittura Del Sacro Cuore Oltre alla consagrazione Al cuore di Gesù E all'atto quotidiano Ha anche Un'intenzione Particolare Di preghiera Che come sapete Il Papa stesso Ogni mese All'Apostolato Della preghiera Date le intenzioni Per cui I membri Di questa associazione Si impegnano A pregare Una Santa Mestra Del Sacro Cuore A tutti Preghiamo anche Per tutti Quanti sapete Che oggi Il Dioce Ci sarà Un nuovo sacerdote Che possa Ricevere Grazie e benedizione Spendere la propria vita Con un buon pastore Al servizio del Signore E del suo preghiera Che è la Santa Chiesa Siano lodati Gesù E Maria Sempre Siano lodati Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti